Sì, come è il mister Domenico del Divino Soccer? Ci presenti la squadra di quest'anno? Allora, intanto ci fanno i gavettoni. Niente, la squadra, vabbè, è un po' di anni che siamo in giro, abbiamo cambiato un po' di effettivi. Niente, ci si diverte sempre, tentiamo sempre di fare il risultato e ci proviamo in ogni modo. L'importante è divertirsi quest'anno, sembra che ci siamo riusciti, cioè siamo riusciti a tirar fuori una squadra decente dai ragazzi che si vogliono divertire, almeno quello. Ma mister, ma te sei unico, in partita riesci a fare sia l'allenatore che il gioco. No, in realtà non abbiamo il portiere per un mese per queste prime tre partite, ci stiamo alternando, oggi è toccato a me e niente, ci proviamo. Dalla prossima ce l'abbiamo però al portiere. Ragazzi allora, in bocca al nuovo per le prossime e buon sabato sera. Grazie altrettanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.